E allora andiamo adesso invece a vedere a Teggiano, ringraziamo Pascal Vicenone Scott per questa presenza e andiamo adesso a Teggiano per scoprire i segreti di un dialetto molto antico, con Diego Dionoro. Vuole essere un vocabolario di base ma anche una sorta di guida per orientarsi tra le parole e le etimologie di una lingua forse meno studiata di altre. Il dialetto romanzo di Teggiano di Vincenzo Andriolo ha l'ambizione di essere una chiave di lettura del Vallo di Diano. Ho raccolto circa 8.700 termini del dialetto con una sorta di vocabolario e anche una serie di espressioni tipiche dei dialetti del Vallo. Ascoltando le diverse parlate dei comuni del Vallo ci si rende conto della particolarità del suo dialetto, espressione di una storia per molti versi indipendente rispetto al resto della regione. Teggiano ed il Vallo si trovano in un'area molto molto particolare e caratteristica dal punto di vista dialettologico, la cosiddetta area Lausberg, un'area che va da Brindisi ad Ostuni sulla costa est ed arriva passando per la Basilicata e per il Vallo fino a Domignano. Il Vallo da questo punto di vista è una sorta di microcosmo linguistico dove si trovano tutte queste varietà in una maniera straordinaria. Grazie. Grazie.